Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie, bravo. Grazie. Di quello che ce n'è. Ma non è una cosa importantissima, soprattutto per le famiglie che sono fatte. Ok. Noi spieghiamo che cosa... Noi siamo ingrati qua. Vi ci vanno qua sotto, la chi dico... Sperta, se ne seguiamo. Noi voglio vedere questa è la cosa. Weki! Grazie Ciao Ciao Succese l'uomo 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 Ulca, ulca! Ulca! Qua stasemman anzi sta signorina? Tutte e due! Tutte e due! Signorina? Grazie!